Salve di Krap, Pompifan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Tailandia La Bangkok Bank ha dichiarato giovedì che aumenterà i tassi sui depositi di un massimo di 0.25 punti percentuali e aumenterà i tassi sui prestiti tra 0.15 e 0.20 punti Gli aumenti dei tassi in vigore venerdì arrivano dopo che la banca di Tailandia ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base all'1.5% questa settimana Le banche statali hanno anche iniziato ad aumentare i tassi di interesse sui prestiti per la prima volta da anni in linea con la mossa della banca centrale Giovedì la Government Housing Bank ha aumentato tutti i tassi di prestiti di 0.25 punti percentuali Il primo aumento in due anni e nove mesi la banca di risparmio governativa ha anche alzato tutti i tassi sui prestiti di 0.25 punti a partire dal giovedì La banca principale è dal 6% al 5.75% a partire dal 1 febbraio Quindi insomma c'è questo aumento dei tassi di interesse Bene, cocomma crap, voi mi seguiti per questo video è tutto E le ho programma nel prossimo video Ciao ragazzi, buona giornata, buona mattina Grazie a tutti